Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina si raccomanda prudenza per materiali dispersi sulla carreggiata in direzione di Livorno. In A1 lavori, personale su strada, in direzione Roma, in tratto interessato, in Cisa, Reggello, Valdarno. E ancora in A1 tra il BV1 variante di Valico e Calenzano, rallentamenti possibili per un veicolo fermo in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A11 tra Pistoia e Prato Ovest, anche qui un veicolo in difficoltà in direzione di Firenze. Per i treni, il 18512 Firenze-Viareggio è stato cancellato da Lucca a Viareggio, viaggiatori con il 18626. Non ci sono altri aggiornamenti al momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie. 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 Grazie.